Nell'esercizio di questo video si chiede di calcolare il seguente limite, ovvero il limite per x che tende a 0 di tangente di logaritmo di 1 più x, tutto diviso x. Non possiamo semplicemente andare a sostituire x uguale a 0 perché quello che otteniamo al numeratore è tangente di logaritmo di 1, ma logaritmo di 1 fa 0 e per cui otteniamo tangente di 0 che fa 0, mentre al denominatore otteniamo 0 e questa qui è una forma indeterminata. Allora qual è l'idea? L'idea è che tangente di logaritmo di 1 più x, tutto diviso x, usando la definizione tangente possiamo scriverla come seno di logaritmo di 1 più x, tutto diviso x volte coseno di logaritmo di 1 più x. Stiamo usando il tangente seno diviso coseno. E ora se andiamo a sostituire x uguale a 0, dove sta il problema? Il problema è che qui al numeratore questo seno si annulla perché seno di 0 fa 0, mentre qui al denominatore è questa x che si annulla perché invece coseno di logaritmo di 1 sarebbe coseno di 0 che farebbe 1. Per cui la forma indeterminata che dobbiamo toglierci proprio riguarda questo seno qui. Quindi l'idea è di usare i limiti notevoli. Per la funzione seno abbiamo un limite notevole molto particolare, quindi usiamo che il limite per y che tende a 0 di seno di y diviso y è uguale ad 1. E come lo usiamo? Lo usiamo con y uguale proprio al nostro argomento, ovvero logaritmo di 1 più x. Come potete vedere chiamiamo logaritmo di 1 più x la nostra y e chiaramente nota se nel nostro limite se x tende a 0, allora y uguale al logaritmo di 1 più x a cosa tende? Tenderà al logaritmo di 1, che è logaritmo di 1 fa 0, quindi la y tende a 0 e quindi effettivamente ricadiamo in questo caso qui. Visto che ci sono, vi ricordo al volo un altro limite notevole che ci sarà utile, che è il limite per y che tende a 0 di logaritmo di 1 più y diviso y uguale ad 1. Detto questo siamo pronti per risolvere il nostro limite perché abbiamo tangente di logaritmo di 1 più x tutto diviso x, ce la siamo riscritta come seno di logaritmo di 1 più x tutto diviso x volte coseno di logaritmo di 1 più x. Isoliamo il seno, quindi ce la riscriviamo come seno di logaritmo di 1 più x, tutto che moltiplica 1 diviso x volte coseno di logaritmo di 1 più x. Ora vogliamo usare questo limite notevole qui, ma dobbiamo avere al denominatore, se abbiamo seno di y, al denominatore dobbiamo avere l'argomento, quindi y. Quindi qui al denominatore dovremmo avere seno di logaritmo di 1 più x tutto diviso logaritmo di 1 più x. Come facciamo? Moltiplichiamo e dividiamo per questa quantità, quindi possiamo scrivere seno di logaritmo di 1 più x diviso logaritmo di 1 più x, purché qua al numeratore moltiplichiamo per logaritmo di 1 più x. In questo modo queste due quantità andrebbero a cancellarsi. Ora, per il limite notevole sappiamo che quando x tende a 0, logaritmo di 1 più x tenderà a 0, quindi questa quantità, questa frazione tenderà a 1. Mentre quest'altra frazione abbiamo ancora una forma indeterminata, perché abbiamo quando x tende a 0, abbiamo logaritmo di 1 che farà 0 e sotto al denominatore abbiamo di nuovo un altro 0 che viene da questa x, quindi sarà ancora del tipo 0 su 0. Tuttavia possiamo usare il secondo limite notevole, come potete vedere. Qui abbiamo logaritmo di 1 più x diviso x, che è proprio questo limite notevole qua, con y uguale a x. E quando x tende a 0 questo limite fa 1, quindi possiamo riscriverci questa frazione come seno di logaritmo di 1 più x tutto diviso logaritmo di 1 più x, che moltiplica. Separiamo l'altro limite notevole, quindi scriviamolo come logaritmo di 1 più x tutto diviso x e quello che rimane è 1 diviso coseno di logaritmo di 1 più x. A cosa tende quando x tende a 0? All'abbiamo detto. Questo termine tende a 1 per il limite notevole, questo termine sempre per limiti notevoli tende a 1, mentre quest'altro rapporto qui quando x tende a 0 non dà problemi perché tende a coseno di logaritmo di 1, logaritmo di 1 fa 0 e coseno di 0 fa 1. Quindi tutto questo limite tende a 1 per 1 per 1, ovvero a 1. La conclusione qual è? Che il limite per x che tende a 0 di tangente di logaritmo di 1 più x tutto diviso x è uguale a 1. Con questo abbiamo concluso l'esercizio e se ti è piaciuto questo video ricordati di iscriverti al canale.